Siamo partiti dalla paristoria, con il buro ore, con le mani che sono gli strumenti antichi, arriviamo a 25 anni fa, quando non è una roba più, ma nasce questo strumento incredibile che si ispira sempre alle tradizioni africane, attrini dal tobago, gli schiavi tagliano dei grossissimi barili di olio, li percuotano, creano degli abballamenti e scoprono che i barili suonano. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.